Il mistero di Paciola, riaprite le indagini, respinta la richiesta di archiviazione sul caso del 33enne cooperante napoletano morto in Colombia. Disposte nuove indagini per la famiglia, non è stato un suicidio. L'ex presidente della Camera, Fico, dice vogliamo verità e giustizia. Ponticelli, nuovo agguato nel giorno della strage, gambizzato, ragazzo di 18 anni, ritenuto affiliato al clan Casella. La sparatoria proprio nel giorno dell'anniversario della strage del Bar Saionara. Associazioni e scuole hanno ricordato le sei vittime del massacro. Mattarella torna a Napoli per gli 800 anni dell'Ateneo. Il presidente della Repubblica parteciperà lunedì alle celebrazioni per l'anniversario della fondazione dell'Università Federico II. Il capo dello Stato andrà anche a Scampia, la soddisfazione del rettore Lorito. Ariano coppia intossicata, la pizzeria non c'entra. Conferenza stampa dei titolari del locale finito al centro dell'inchiesta per la morte di Gerardina Corsano e il malore del marito per una presunta intossicazione. Attesa per i risultati ufficiali da Roma, ma stasera la pizzeria riapre. Furti d'auto, sgominati due gruppi criminali, almeno 45 colpi messi a segno nelle province di Salerno, Avellino e Napoli. Stamane il Briz dei Carabinieri, sei le persone finite in manette. Ma i cittadini lanciano un grido d'allarme, situazione insostenibile. Parte da Benevento un piano per rilanciare il turismo, Confindustria al fianco delle imprese per scommettere sull'enogastronomia. Così si valorizza un settore strategico per l'economia del territorio, dice il presidente Vigorito, che sollecita più informazione sui fondi disponibili nei bandi della regione. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura il caso di Mario Paciola, il 33enne napoletano cooperante dell'ONU morto misteriosamente in Colombia. I genitori finalmente dicono avremo giustizia. Il giudice ha respinto la richiesta di archiviazione. Dunque le indagini continuano. Sentiamo. Mario Paciola è stato trovato impiccato con un lenzuolo il 15 luglio del 2020 a San Vincente de Caguani in Colombia. Il cooperante partenopeo era in missione di pace per conto dell'ONU. Sin dal primo momento le autorità colombiane avevano parlato di suicidio ma in queste ore il giudice di Roma Monica Ciancio ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura e ha disposto nuove indagini. Al momento del ritrovamento il corpo era avvolto da un lenzuolo. Nella casa sono stati trovati coltelli e tracce di sangue. Mario la sera prima di morire aveva detto ai genitori di avere paura e si stava preparando per un veloce rimpatrio a Napoli. Chiediamo verità e giustizia, dice 8 Channel ex presidente della Camera Roberto Fico e questo è un importante passo avanti. È una notizia importante che restituisce alla sua famiglia e a tutti noi la speranza di raggiungere una verità piena sull'accaduto. Restano tanti punti da chiarire e l'Italia deve pretendere collaborazione da parte di tutti gli attori internazionali coinvolti nella vicenda. Noi non ci stancheremo di chiedere verità e giustizia per Mario Paciola, mai. Mario Paciola era in Colombia per verificare i risultati di alcuni progetti delle Nazioni Unite sull'attuazione dei protocolli di pace tra Stato e Forze Armate rivoluzionari della Colombia. Da mesi era preoccupato, aveva chiesto un trasferimento senza mai ottenerlo. Restiamo a Napoli. Ancora un agguato. Nella notte è stato gambizzato un ragazzo di 18 anni a Napoli Est, nel quartiere di Ponticelli, proprio nel giorno in cui si ricordano le vittime del massacro del bar Sayonara. Vediamo. A Ponticelli si continua a sparare. Anche stavolta la vittima è giovanissima. Un 18enne ferito alle gambe a colpi di arma da fuoco in via Luigi Franciosa. Qui i carabinieri hanno rinvenuto alcuni bossoli. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe legato al clan Casella. Il giovane non è nuovo. Alle cronache fu già arrestato lo scorso marzo insieme ad un 15enne per il possesso di una pistola replica e una maschera di scream. L'agguato è avvenuto proprio nel giorno in cui il quartiere ricorda le vittime della strage del bar Sayonara, il massacro di Camorra che si consumò l'11 novembre del 1989. L'iniziativa, dedicata alla memoria delle vittime innocenti, ha visto la partecipazione di tanti ragazzi e delle numerose associazioni che combattono ogni giorno per la legalità, riuniti davanti alla lapide dopo il minuto di silenzio, le testimonianze dei familiari delle vittime. Non abbiamo fatto la marcia, ma siamo comunque presenti sul territorio, proprio per la memoria dei nostri cari deceduti l'11 novembre 1989. Ci saranno oggi vari laboratori nelle varie scuole e quindi abbiamo voluto coinvolgere proprio i bambini, cioè renderli parte attiva e non semplicemente passeggiare. Magari per i piccolini poteva essere di veramente che ti può lasciare veramente il segno. Il tema di quest'anno è abitare il quartiere contro la Camorra. Il quartiere che, nonostante il rumore delle bombe, degli spari, l'ultimo la scorsa notte e pochi metri dalla biblioteca Gazzareletta, notizia neanche uscita sui giornali, oramai non fa neanche più l'iniziativa dei spari. Però è un quartiere invece che resiste, è un quartiere che ha il rumore assordante degli spari, risponde con una biblioteca aperta a fine sera, aperta il sabato mattina, cento mancini. Sono tantissimi luoghi creando occasioni, creando spazi di aggregazione, discussione di crescita per le ragazze e i ragazzi di questa zona di Napoli. La Federico II compie 800 anni e arriva per questo il presidente Mattarella. Questa università è patrimonio di tutti, è patrimonio dell'Italia, ha detto il rettore. Sentiamo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà il nuovo anno accademico della Federico II in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dell'Ateneo Napoletano. Fondata nel 1224 è una delle università più antiche del mondo e oltre al capo dello Stato sarà presente anche il ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini. Nascere con segno di questi 800 anni e di questo compleanno è importante. Sono 800 anni dell'università ma sono 800 anni anche dell'Università di Napoli perché insomma questa è nata come prima università della città, la città è molto vicina alla sua università. Per gli 800 anni dell'Ateneo Partenopeo l'intenzione del rettore Matteo Lorito è quella di lasciare un segno. È un'inaugurazione particolare, bellissima, è un'inaugurazione di 800 anni di attività della prima università statale, quindi istituita dallo Stato e abbiamo l'onore di avere il Presidente Mattarella. Un altro elemento di gioia, di felicità, di grande come di attenzione verso il nostro Ateneo è il fatto che l'ino nazionale sarà cantato da Andrea Bocelli. Andrea Bocelli si tratterrà, il giorno dopo avremo invece una giornata dedicata a lui in cui ci sarà appunto la laurea non riscausa, Andrea Bocelli e alla fine della laurea non riscausa anche lì eccezionalmente il maestro ci regalerà un po' della sua arte, diciamo, regalerà a noi e a tutta Napoli perché poi tutto sarà ovviamente online. Andiamo adesso in Irpinia, ad Ariano il caso della coppia intossicata. La pizzeria non c'entra, oggi la conferenza stampa dei titolari del locale è finito al centro dell'inchiesta per la morte di Gerardina Corsano. Stasera il locale riapre, vediamo. La pizzeria Oasi di Ariano Irpino cerca di buttarsi alle spalle una brutta pagina di cronaca e riapre al pubblico questa sera. Il ristorante di Pina e Luigi è finito al centro di un'inchiesta sulla morte di Gerardina e sul malore del marito, avvenuto dopo aver mangiato una pizza con dell'olio piccante proprio nel locale arianese. Inizialmente si era pensato al botolino, ma il sospetto è stato subito allontanato perché su 200 commensali solo loro avevano avvertito il malore. Oggi, attraverso una conferenza stampa, la titolare Pina, ancora provata dalla vicenda, cerca di dimenticare. Si spera alla fine di un incubo, anche se non è alla fine. Siamo in una parte che stiamo ricominciando, in una parte di speranza, però alla fine no. La fine sarà prima di tutto quando arriveranno i risultati sicuri e poi rimarrà sempre il dolore per quello che è successo, sia per chi non c'è più e sia per quello che è successo a noi. Lui ci ha sconvolto un po' con la vita, noi non siamo abituati a noi. A noi dà fastidio, no fastidio, ci dispiace pure se un cliente ci fa una piccola osservazione su un prodotto che non è piaciuto per qualche motivo, figuratevi in una cosa del genere. Intanto la vicenda giudiziaria continua. Sono attesi proprio per oggi i risultati delle analisi sugli alimenti e altri campioni sequestrati nel ristorante. Purtroppo c'è un evento avverso di una certa rilevanza, c'è una persona che non c'è più ed è giusto che tutte le indagini vengano svolte e c'è bisogno anche del tempo, sia in attesa dei risultati, sia sugli esami tossicologici dell'Istituto Superiore di Sanità e sia l'esito dell'autopsia e quindi c'è bisogno di un po' di tempo. I carabinieri della compagnia di Battipaia hanno sgominato due bande dedicate ai furti di auto nelle province di Salerno, Avellino e Napoli. Vediamo. I carabinieri della compagnia di Battipaia hanno sgominato due bande di ladri di auto che tra gennaio e maggio 2022 avrebbero compiuto complessivamente 43 furti. Nelle province di Salerno e Avellino, ai domiciliari, sono finiti Giovanni Spema, Giuseppe Danelon, Roberto Pantò, Michele Perillo, Ciro Mirto e Raffaele Izzo, tutti residenti in comuni del Napoletano. Le indagini sono partite ad aprile 2022 a seguito di un furto avvenuto a Ponte Cagnano-Faiano. I carabinieri sono riusciti a ricostruire il modus operandi delle bande che raggiungevano le città della Campania con auto a noleggio e riuscivano a mettere in moto le vetture forzando il cilindro della messa in moto. I ladri ricercavano prevalentemente modelli di Panda, Fiat 500 e Multipla. Oltre appunto Lancia Ypsilon e Jeep Renegade. Delle 43 auto rubate, soltanto due sono state recuperate a Napoli a Giuliano in Campania. L'operazione messa in campo dai carabinieri di Battipaia è soltanto l'ultima dei tanti interventi. effettuati dalle forze dell'ordine nel Salernitano. Ma per i residenti campani è necessario fare di più per fronteggiare la criminalità. Io sono stato pure penalizzato una volta e mi hanno rubato la macchina. Però purtroppo che possiamo fare? A questo punto dobbiamo affidarci solo al Signore. Si sente che vanno rubando degli appartamenti e via di scorrendo. Siamo alla merced della malavita. Io vedo che il controllo ci sta solo se devono fare le multe. lo vedo solo un lucro. Forse è una fitta il tredicesimo, non lo so. Una nuova strategia turistica per il Sannio se ne è parlato in un incontro tra Confindustria Benevento, Regione Campania e le imprese della sezione turismo. Vediamo. Valorizzare le notevoli potenzialità turistiche ed enogastronomiche del Sannio. Questo l'obiettivo di Confindustria Benevento che ha incontrato l'assessore regionale al turismo Felice Casucci e le imprese del territorio che hanno anche presentato progetti per valorizzare le eccellenze produttive locali con il marchio collettivo Sannio da gustare. Ad accogliere l'assessore regionale Casucci è stato il presidente degli industriali Sanniti. Confindustria ha voluto rappresentare all'assessore una forma di turismo enogastronomico in cui questa provincia eccelle oltre a tutte le testimonianze storiche, culturali, paesaggistiche. E devo dire che è stata una riunione molto interessante. I fondi per incentivare questo tipo di turismo ci sono ma le imprese devono conoscere i bandi. La proposta che parte da Confindustria è rivolgersi a questo tipo di imprese fa sì che abbiano conoscenza delle iniziative regionali e perché no anche nazionali che sono previste nel PNR per la valorizzazione delle aree interne e sensibilizzare al massimo la partecipazione. È tempo di una grande strategia per il Sannio le parole dell'assessore al turismo della regione Casucci che ha poi rimarcato le potenzialità turistiche e le forti peculiarità enogastronomiche del territorio. Soddisfatta la presidente della sezione turismo Teresa Romano che ha rimarcato come la struttura organizzativa del turismo sia una priorità e grazie alla sinergia con la regione e con l'intera filiera istituzionale si può ormai passare dalle parole ai fatti. La salute mentale nei penitenziari troppe carenze per i detenuti psichiatrici l'allarme è lanciato dal garante regionale per i detenuti Samuele Ciambriello. Vediamo. Un'azione comune tra ASL, istituzioni locali direttori dei penitenziari e associazioni del terzo settore per i reclusi affetti da disturbi psichiatrici è quanto auspica il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello che questa mattina ha rilanciato l'allarme dall'incontro promosso con la conferenza nazionale dei garanti nell'aula del consiglio regionale della Campania. Sul tavolo il tema della salute mentale nelle carceri le misure alternative per coloro che soffrono di disturbi psichici le articolazioni psichiatriche nelle carceri e le REMS. Sui 7.200 detenuti della Campania 1.400 sono tossicodipendenti e quasi 350 vivono una malattia psichica un disagio psichico una persona che è malato e che è seguita dai dipartimenti di salute mentale se commette un piccolo reato non dovrebbe entrare in carcere entrare in carcere significa poi averlo in cura il diritto della salute passa attraverso la salute mentale Il tema della salute e della salute mentale in carcere è uno dei temi principali delle sofferenze del carcere in questo tempo nel nostro paese la riforma che ha giustamente chiuso gli ospedali psichiatrici e giudiziari deve arrivare fino alla fine e quindi deve studiare alternative alla presa in carico dentro il carcere delle persone con problemi di salute mentale che in carcere non possono stare Torniamo a Napoli a San Gregorio Armeno si lavora ad un nuovo piano di viabilità pedonale tra le proposte allargare la ZTL anche alla parte bassa di Via Duomo Sentiamo Senso unico pedonale piano complessivo della mobilità a piedi tra i decumani per evitare il caos San Gregorio Armeno in vista del Natale continuano le riunioni tra pastorai referenti della municipalità e amministrazione comunale per trovare la quadra fervono i preparativi per il Natale che mai come quest'anno sarà più affollato nel periodo che va dalla fine di novembre fino all'Epifania sono previsti in arrivo 3 milioni di turisti mai nella storia recente della città si sono toccati picchi così elevati e dunque serve organizzarsi per tempo per l'accoglienza chiaramente noi come municipalità anche l'anno scorso abbiamo immaginato anche di rendere pedonale quella che è la parte bassa di via dei tribunali quella che va da via Duomo a via Concezio Muzzi speriamo che per Natale riusciremo anche a raggiungere questo obiettivo di modo che creiamo un unico percorso anche su via dei tribunali fino ad arrivare a Castel Capuano che è anche un'altra zona quella dei chiesi di tribunali che va da via Duomo a via Concezio Muzzi molto importante per la municipalità stessa il piano di traffico sicuramente ci sta lavorando il comune centrale con grande attenzione con gli assessori interessati e a breve chiaramente siamo fiduciosi che insieme cercheremo di dare la migliore soluzione possibile per quanto riguarda l'accoglienza dei turisti che deve essere sicuramente una delle priorità di questa amministrazione andiamo a Salerno adesso è corsa contro il tempo per le verifiche sulla stabilità del molo Manfredi dopo il cedimento di parte della banchina stop all'approdo delle navi da crociera vediamo per il momento l'attracco delle navi da crociera è stato dirottato altrove in attesa di ultimare gli interventi e le verifiche strutturali a Salerno si accelera dopo il cedimento del prolungamento del molo Manfredi una voragine larga una decina di metri e profonda quattro che ha destato non poca preoccupazione le navi da crociera in arrivo secondo il ricco calendario turistico della città sono state spostate temporaneamente al molo commerciale l'autorità portuale l'ho sentito ieri sta lavorando all'acremente per porre riparo a questo a questo inconveniente purtroppo insomma sono fatti che riguardano l'andamento del mare delle mareggiate fenomeni di subsidenza insomma quindi sono delle cose alle quali stanno ponendo riparo in termini in tempi assolutamente tempestivi il porto di Salerno è stato destinatario in questi anni di investimenti importanti l'obiettivo è continuare a rafforzare la dotazione infrastrutturale come ribadito dal deputato PD Piero De Luca a Salerno peraltro quest'anno sono arrivati un numero di navi da crociera mai registrato in questa città in questa provincia siamo davvero molto molto fiduciosi dobbiamo continuare in quella direzione investendo le risorse del PNRR e completando le infrastrutture necessarie per attrarre turisti attrarre quindi economie l'autorità di sistema ha assicurato che gli interventi sono in dirittura d'arrivo e già dal pomeriggio la situazione tornerà alla normalità il cedimento è stato spiegato dagli addetti ai lavori è stato con ogni probabilità provocato in maniera naturale dalle eliche delle navi che hanno determinato un abbassamento del fondale Ad Avellino adesso è ancora a scontro sul servizio di raccolta dei rifiuti il comune chiarisce i disservizi di questi giorni non dipendono dalla nuova società grande perché si parte ufficialmente il 16 novembre vediamo carta e cartone soprattutto ma anche altre tipologie di rifiuti sono rimasti a terra in questi giorni la raccolta procede a rilento in città e in molti centri dell'interlanda di Avellino non è chiaro se il disservizio è dovuto ad una protesta non ufficiale messa in atto dagli operai di Irpinambiente in relazione alla spinosa vertenza che tiene banco in queste settimane con il passaggio alla nuova società costituita dal comune di Avellino fatto sta che la città in molti punti è sporca strade e marciapiedi sono pieni al comune arriva il chiarimento dell'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone abbiamo ricevuto molte chiamate dai cittadini che ci accusavano che non facevamo il servizio con un grande che forse pensavano che fosse già partita invece noi ribadiamo che fino al giorno 15 tutti i servizi sono a capo di Irpinambiente avrà dei problemi organizzativi non so che cosa è però sono loro che debbano mantenere fede al contratto un passaggio di cantiere che non sarà indolore per gli operai in giornata un nuovo tavolo in prefettura con i sindacati per scongiurare i licenziamenti ma dalla FIASE parte una dura accusa nei confronti della provincia state uccidendo il lavoro e i lavoratori di Irpinambiente e gli avete messo il cappio al collo perché adesso sono costretti per non perdere il pane a firmare con una società privata che gli toglierà tutti i diritti non avranno più prerogative né sull'anzianità né su quello che eventualmente hanno in corso con Irpinambiente e quanto altro Banche, imprese e il dialogo fondamentale per lo sviluppo del territorio questi temi al centro dell'incontro al San Vittorino di Benevento patrocinato da Confindustria vediamo il difficile rapporto tra banche e imprese oggetto dell'incontro di oggi all'auditorium di San Vittorino organizzato dalla sanità Miua Energia e patrocinato da Confindustria a Benevento e Filippo Oliverini past president dell'Unione Industriali con delega al Credito spiega Le banche ovviamente devono anche cercare di sforzarsi di usare un'unica metrica per quanto riguarda la richiesta delle informazioni sul mondo SG e cercare di essere più presente sul territorio la provincia di Benevento dati della CGA di Messa dell'altro giorno evidenza che i finanziamenti dati all'impresa sono calati circa il 7-8% e questo è una lice lunga le aziende più strutturate stanno utilizzando le proprie liquidità e dunque il rapporto col territorio diventa la base per agevolare l'accesso al credito in una fase delicata come spiega il CEO di Miua Energia Michele Zullo Allora io credo che proprio la chiave di lettura sia proprio il rapporto la relazione che dovremmo avere con le banche quando un imprenditore è in grado di spiegare ad una banca la sua visione la banca può accompagnare in maniera più concreta le aziende quando si possono accompagnare le aziende finanziare le aziende l'azienda può investire e quindi automaticamente si riflette sul territorio e si riflette sulle assunzioni e quindi automaticamente dobbiamo lavorare in questo senso per poter cercare di migliorare la situazione soprattutto nelle zone depresse come quelle del Meridione Oggi l'esordio teatrale per l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris con istigazione a sognare opera di teatro civile in scena oggi e domani dalle 19.30 all'Istituto per gli studi filosofici di Via Monte di Dio di Napoli De Magistris racconterà dell'intreccio tra mafie e politica e della funzione civilizzatrice della Costituzione attraverso la sua storia di magistrato e del suo successivo impegno politico come sindaco da una parte la cronaca racconto di alcune vicende giudiziarie che evidenziano l'intreccio sistemico tra politica e malaffare dall'altra invece racconterà attraverso quattro casi la forza morale civile che manifesta l'attuazione del dettato costituzionale l'ultima parte infine riproporrà alcuni articoli della Costituzione in particolare il secondo comma dell'articolo 3 come strumento per la costruzione di una pacifica convivenza civile fondata sui principi di libertà uguaglianza e dignità umana e sociale Un viaggio nei ricordi e nelle emozioni che solo il calcio sa regalare inaugurata al maschio Angioino la mostra sulla nazionale e il calcio Napoli vediamo Un viaggio nel tempo e nelle emozioni inaugurata al maschio Angioino la mostra raccontami com'era il calcio con al centro i ricordi e le immagini più belle e significative che hanno accompagnato il percorso della nazionale italiana ma non solo in mostra anche la storia del Napoli di una squadra che è l'anima stessa della città ritagli di giornali divise storiche e foto che è possibile ammirare nella sala dei baroni è un evento molto bello perché racconta un po' la storia della nostra nazionale che è di calcio uno dei grandi simboli del nostro paese ed è anche uno spaccato di come la nostra società si è cambiata di come il rapporto tra il calcio e i tifosi si è evoluto negli anni è anche un modo per ricordare la nostra infanzia il nostro passato ognuno ritroverà dei momenti della propria vita in queste immagini nelle divise di calcio in una storia che è la storia dell'Italia a presenziare all'iniziativa anche chi da capitano con la nazionale ha sollevato la Coppa del Mondo Fabio Cannavaro sicuramente è una grande emozione perché comunque far parte della storia della federazione italiana mi riempi d'orgoglio e niente speriamo che sia di buon auspicio per il futuro è tutto per questa edizione in regia Aldo Fenizia grazie per averci seguito arrivederci a presto a presto